ciao amici come state per me è stata una settimana diciamo impegnativa chi di voi mi segue sempre avrà notato che la pubblicazione dei video si è sfasata rispetto ai normali giorni di pubblicazione sul canale allora va tutto bene non preoccupatevi per me sono solo sotto pressione con tantissime cose cioè è dal fine settimana scorso che ho avuto tutta una serie di eventi avventure disavventure com'era il titolo di quel film una serie di sfortunati eventi tra lavoro e vita personale mi è successo di tutto ma ogni tanto capita anche a voi di avere momenti così a me sì bisogna restare calmi e positivi ho cercato di farlo ma non ho avuto tempo di girare video comunque sembra che sia tornando tutto alla normalità incrociamo le dita oggi volevo salutarvi ciao a tutti e riprendere in mano la programmazione dei video lunedì riprende la programmazione classica domani e domenica comunque nel frattempo volevo condividere con voi due video simpatici e utili per questo caldo estivo anche se oggi qui da me piove ma da domani si riparte col soleone sui video non vi anticipo nulla sarà una surprise per oggi chiudo qui devo scappare e per tirarmi un po su di morale mettete un bel mi piace doppio a questo video tanti mi piace tanti nuovi video rimanete sintonizzati sul canale per seguire sempre i miei nuovi video mi raccomando attivate la campanella delle notifiche e se non siete iscritti fatelo subito e poi condividete questo video con i vostri amici così anche loro sapranno che va tutto bene noi ci vediamo presto sempre qui sul canale naturalmente ciao